Doppio appuntamento nei prossimi due weekend con il Presepe Vivente di Giffoni Valle Piana. La rievocazione storica, organizzata dall'Associazione Culturale Presepe Vivente, si terrà il 29 del 30 dicembre ed il 5 del 6 gennaio, con apertura alle 17.30 e rappresentazione della Sacra Nascita di Gesù alle ore 19. Un percorso emozionante per rinnovare lo spirito religioso e per favorire l'incontro e la condivisione come momento di aggregazione vivo e partecipe.